Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo degli accordi, che cosa sono, come si formano e che utilizzo hanno. Cantare in libertà Un accordo è un insieme di minimo tre note suonate simultaneamente, anche due però due note si parla più di bicordo, anziché di accordo. Quindi diciamo minimo tre note che sono la prima, la terza e la quinta di una scala, almeno quello fondamentale di base, è così. Facciamo un esempio in Do maggiore. Quindi la scala di Do è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quindi il Do è la prima, la terza sarà il Mi e la quinta sarà il Sol. Quindi l'accordo di Do maggiore si forma suonando Do, Mi e Sol, ovviamente insieme e sentiamo che questo è il famoso Do maggiore. Ovviamente l'insieme di note deve essere un insieme di note che tra di loro vanno appunto d'accordo, altrimenti prendiamo tre note che non vanno d'accordo e quindi sono dissonanti, non va bene. Quindi io vi parlerò soltanto degli accordi maggiori e minori. Qual è la differenza? L'accordo maggiore, abbiamo detto Do, Mi, Sol, è un accordo abbastanza felice, appare felice. L'accordo minore è un accordo che risulta essere un po' più triste e che cosa cambia? Cambia soltanto la terza, cioè la nota che sta al centro. Quindi da Mi scende un mezzo tono e quindi diventa Mi bemolle. Quindi l'accordo di Do minore sarà Do, Mi bemolle, Sol. Sentiamo che è un po' più triste. Questo è maggiore, maggiore, minore, maggiore, minore. Ok? Sarebbe un video troppo lungo se io vi volessi spiegare tutti gli accordi e tutte le soluzioni. Vi dirò soltanto almeno gli accordi maggiori e minori per ogni nota. Quindi Re maggiore sarà Re Fa diesis La. E il Re minore, ovviamente, scendendo il Fa diesis di mezzo tono, sarà Re Fa La. Il Mi maggiore. Mi Sol diesis Si. Ovviamente minore. Mi Sol naturale Si. Il Fa alla stessa posizione del Do, Fa La Do, Sol Si Re, La Do diesis Mi. Questi sono tutti maggiori. Si Re diesis Fa diesis sarà il Si maggiore. Ovviamente anche qui, scendendo la terza, avremo Si Re Fa diesis. Per quanto riguarda gli altri accordi, tipo il Do diesis, il Re diesis, oppure se li vogliamo chiamare bemolle, la distanza, ricordatevi, tra la prima, la terza e la quinta, in caso di accordo maggiore, è due toni, un tono e mezzo. Quindi, se noi abbiamo, facciamo sempre l'esempio in Do, che è più facile. Dal Do, per arrivare al Mi, farò mezzo tono, Do diesis, Re, e avremo un tono, Re diesis, un tono e mezzo, Mi, e siamo arrivati a due toni. Questa è la distanza, la prima distanza. Poi, dal Mi al Sol, avremo un tono e mezzo. Vediamo. Quindi Mi, Fa, direttamente, perché abbiamo detto che questa distanza è già di un semitono, Fa diesis, tono, e Sol, un tono e mezzo. Da qualsiasi nota voi partiate, quindi potete trovare l'accordo maggiore e di conseguenza quello minore. Partiamo dal Fa diesis, ad esempio. Quindi, Fa diesis, procediamo per semitoni. Sol, primo semitono, un tono, Sol diesis, La, La diesis. Quindi, Fa diesis, La diesis, è il primo intervallo. Poi, dal La diesis, facciamo un tono e mezzo. Avremo Si, Do, Do diesis. Quindi, l'accordo di Fa diesis maggiore sarà Fa diesis, La diesis, Do diesis. Se vogliamo l'accordo minore, ovviamente scendiamo la terza, non la terza nota in successione, ma la terza significa la nota del centro. Quindi, La diesis scende e diventa La naturale. E sentiamo che questo è subito un accordo minore. Poi, quando diventate bravi, aggiungiamo altre note, perché gli accordi possono avere delle settime, delle nonne, tredicesime, e così via. Possono essere anche diminuiti, ma questi sono aspetti già più avanzati che magari vi spiegherò in seguito. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Il mio consiglio, se volete imparare delle canzoni, intanto esercitatevi con gli accordi, maggiori e minori che abbiamo visto. Scrivete il titolo della canzone su Google dove volete e a fianco scrivete proprio accordi e vi usciranno i testi delle canzoni con gli accordi sopra. Attenzione a un particolare. Quando gli accordi sono scritti in inglese, perché gli inglesi guidano a sinistra, fanno tutte le cose al contrario di noi, anche gli accordi li scrivono in maniera diversa, a corrisponde al nostro la, quindi in ordine, loro partono dalla nota la, la, si, do, re, mi, fa, sol, quindi sarà a, b, c, d, e, f, g. Se c'è una m piccola accanto, significa che con l'accordo sarà minore, quindi c, m piccola sarà do minore, ad esempio. Buon divertimento! Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie!